Quello che vi volevo dire prima riguardo alla corsia è che, e che mi è stato chiesto anche l'altra volta, poi purtroppo riguardando un po' la live e i commenti a cui non sono riuscito a rispondere, appunto non l'ho visto in tempo. Calcolate sempre che il centro della corsia è quello potenzialmente più sporco, quindi che se ne dica, ossia stare verso la riga bianca a sinistra a destra, c'è tanto sporco, se vai tanto verso la riga esterna, sì, la riga esterna in questo caso, insomma la riga quella del bordo strada, sì. Ma se calcolate questa corsia come divisa in tre parti, quella centrale è quella dove passano, dove sopra ci passano tutti i motori e tutte le parti meccaniche anche dei mezzi pesanti, motori, serbatoi dell'olio, quant'altro, insomma tutto quello che ci può passare. Ed è una zona di strada che difficilmente viene battuta da gomme, se non proprio le gomme delle moto, le mezze a due ruote. Quindi è facile passare su un punto di asfalto poco battuto e quindi più sporco, appunto anche con olio e liquidi vari, rispetto alle due parti laterali della corsia 1 e 2, dove se vi immaginate una macchina, tranne lo scemo di prima che stava completamente dall'altra parte, in quel caso sì, le sue ruote di destra stavano al centro della corsia, però quello è un caso. Se immaginate una macchina o un camion, le gomme di questi mezzi passano ai lati ed è un continuo passaggio, quindi difficilmente saranno sporche queste due fasce. Potranno essere più rovinate, senza ombra di dubbio, perché a forza di passa e passa anche mezzi pesanti le rovinano. Come al solito, nella guida purtroppo ragazzi c'è da avere freddo, perché abbiamo la solita coperta corta. Io ho chiuso la porta proprio perché avevo freddo. È la solita coperta corta, quindi tira da una parte e scopri dall'altra. Quindi o abbiamo una strada pulita ai lati, dico ai lati ma famosa HP, ma più rovinata. Poi andiamo verso il centro e quindi c'è una strada, posso dire intonsa, poco rovinata, ma più sporca. Questa ovviamente è una generalizzazione, non sempre è così, ma su strade abbastanza abbattute è facile che sia così in tanti punti. Ed è lì che fa la differenza le nostre sensazioni in sella. Capire quanto è sporca la strada, vedere lontano quanto è rovinata, per poi decidere che traiettoria fare. Guarda quest'altro, questo costo autobus. Ho due nel raggio di un chilometro neanche? Grazie. Grazie a tutti.